Ragazzi vi do nuovamente il benvenuto su Battlefield 4 visto che ci siamo ritornati da un paio di settimane Stavo pensando perché non proporvi nuovamente una delle mappe migliori di Battlefield 3 Riproposte poi ovviamente su Battlefield 4 sto parlando ovviamente di Operation Metro Ragazzi come al solito lasciate un bel like, condividete questi video e nulla, buona visione Prima vittima, hai scelto dolore, miseria e morte Adesso il tempo di organizzarci un attimo perché all'inizio è sempre un po' problematico no? Non siamo ancora tutti ben posizionati L'obiettivo di questo video non sarà fare tante kill o vincere Alla fine uno gioca a Operation Metro per le kill, dai non prendiamoci per il culo Chiunque gioca questa mappa lo fa per le kill Invece no, io in questo caso voglio arrivare semplicemente prima Minchia, cazzo sta usando Preso Preso, questo qui vi avviso sarà tutto un video preso, preso, preso Operation Metro è così Aspetta uno lì è sdraiato Preso Ok zio Tiraniamo io, aspetta la bomba Va che bravo medico che sono, guarda Che in realtà poi qui il kit del medico è nella classe assalto Cazzo, mi vedeva? Non lo vedevo io? Come cazzo faceva? Ora lo vedo bene Oh no Figa, era il nemico questo, è morto Occhio, ti ranimo io, zzi tranquillo Vai Voleva andare quello, eh Cazzo ma stanno passando, eh Ok fatto Io devo stare attento anche dietro Però se non ci sono gli alleati Tipo da lì Uno esce da lì Mi falcia, eh Eh vedi, vedi Porca trova Appena detto Ma anche i colpi gli arrivano Oh Che cazzo è? Ci riforniamo un po' di munizioni E ritorniamo all'assalto Ti rianimo io, zi Preso E risegnalato Se no non ti uccidevo, eh Perché non ti vedevo Ok fatto Preso Occhio le granate Peccato che su questo gioco le granate non le puoi rilanciare Rianimo io No, me l'hanno fregato Ma rianimatelo tutto Non al 20% O al 20% di salute Ditelo come volete Vai zio Mi sa che qua c'è un po' di gente, mi sa, eh Eccolo Cazzo, meno male stava sparando a quello sotto Se no mi avrebbe falciato, eh Cazzo, cazzo Via, 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 via Meglio non esagerare più di tanto Questo riesco a rianimarlo Io ci provo, zi, eh Cazzo, sono caduto Chi è che mi ha spinto? Questo non me lo rianima Perché è un bel gioco Preso Ok Levativi dai coglioni Porca mannoda Devo fare due rianimazioni Ci provo È pericoloso che qui c'è il fumogeno Quando buttano i fumogeni Vogliono pushare Questo è passato Nessuno controlla Cristo Assistenza Ma perché? No, raga Devo tornare indietro Qualcuno È riuscito a fare il giro Ha piazzato pure un segnalatore di rientro Diamo una mano Sennò poi è incontinibile Sta situazione Fammi rianimare Li avete fatti, zi, eh Bravi Ma questi sono nemici, zi Ma perché non sparate? Il gioco mi lagga Io non riesco a mirare Ho sparato a casissimo Cazzo, la dove è uscito questo? Ma sei impazzito Stava provando il flenchino Mi sa Oddio Qua glielo posso anche concedere Rianimo io Tranquillo Via uno Ah ma è un nemico Va bene Ho detto Ma questo mi fa il contrattacco Non volevo accoltellare Però niente Per fortuna L'ho accoltellato da dietro Ma perché questo non lo rianima nessuno? Vabbè Ah perché se lo stessi chiedendo Ho attivato il plus 100% Non ho voluto strafare sul 200 Questi me li rianimo io Che non rianima Ho fatto Minchia che volo ha fatto Rianimazioni facili Dai perché quello non me lo rianima? Preso Morirà sicuramente per la granata Infatti Preso Questo lo rianimo io Vai Questo lo rianimo io Tranquilli No Non sparare il lancio gratis Sul soffitto Pezzo di merda In amicizia ovviamente Questo lo rianimo io Fatto Tieni la rianimazione Tieni il kit medico Rianimo anche tezzi Vai Questo l'hanno fatto Cazzo mi stava facendo Occhio raga Lì Ma cazzo lo vedete Furbo però ragazzo Ed ha sdraiato Vedete Nessuno l'ha calcolato L'ho visto io Forse perché ero lontano Giustamente Ne hai uno sotto i piedi Con tutto sto bordello Non è che stai proprio a guardare Il pelo nell'uovo Questo gli passa davanti Io stavo caricando Però l'altro non l'ha visto Ti rianimo io Tieni 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 Pazzissima Stare In amicizia Ma fatto Cazzo Oh Ma rianimato Via via Oddio Non ci credo Non ci credo Qualcuno ma rianimato Ti rianimo io Vai Non ci credo In un punto pazzo Ma rianimato quello Grandissimo Così così si fa il medico Bravo Fatto Flying potato Ma stai scherzando Stai riusciti a passare da sotto ragazzi Oddio quanti sono Oh non more quello Non moriva Preso un altro Preso 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 Tiremo io Tiremo io Mi aspetto a fare anche quello No 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 Cazzo con il lancio granate Mi stava facendo Fatto Minchia Che cazzo Mi ha sparato No Stanno riprendendo Il lato sinistro Saliamo su E' rischioso Cosa vuol dire Uccisi in azione Grande zia Preso Cazzo Quante cazzo Non dovevo premere x Sono un coglione Sono un coglione Perché l'ha fatto apposta Ha detto Probabilmente qualcuno Lo va a rianimare Ha lanciato due granate Ti rianimo io No c'è un nemico Oddio L'ho ucciso Con il defibrillatore Non è possibile Volevo rianimare il compagno Non uccidere Quello sta rosicando Un botto Per una kill così Occhio Uno è passato Preso Poverò a rianimarlo Questo con lo scudo Ma sei serio Ziva Che il vetro Te lo sfondano subito Preso a casissimo Preso Cazzo mi spara No Questo è salito Cri Preso Fatto Fatto No il secondo Non è morto Ma vaffan Fatto Preso Quello col lanciarazzi A terra Quello l'ha rianimato Bravo Tu preso T'ho visto T'ho visto T'ho visto Mi basta rianimare qualcuno Ma non l'ho rianimata Al 20 Madonna quanto siete stupidi In culo Basta con questi flanchini Con il mitraglione Cripta Hai rotto il cazzo In amicizia ovviamente In amicizia Guarda Quello dove si è messo Guardalo Preso Falciato Fermo Z Fermo Mica può muore Sei morto Questo lo rianimo io Madonna Quelli che sparano Con il lancio Guardate sopra il soffitto Quanto li odio Quanto li odio Uno l'ho fatto Il secondo esce Preferisce non uscire Mi sa Zio paperone Ma dai Con l'airbus Ma non lo può usare L'airbus È proibito in questo server Eh mo Mi hai rotto il cazzo Quella ancora là Oh ma hai rotto i coglioni Esci dai Esci su Oh Ci voleva tanto Preso Voleva flencare Vabbè dai Almeno ce l'ha provato Però Preso Minchia ma falciato Ero già dentro un muro Da mezz'ora No raga Rianimare quelli Non ce la faccio Ci provo Vai Copritemi che No no Non ci riesco Mi fa Mi fa Questi però li provo Via Ah doppia la fatta Buono E prendo anche quello Vai provateci Preso Che cazzo Mi hanno lanciato Ok ragazzi Allora la partita è finita Non ho fatto Molti kill Anzi in realtà Per una partita Di operazione Metro 3200 ticket Ho fatto proprio Un cazzo Fatto eh Probabilmente non vedete Il mio risultato Perché c'è davanti La webcam Vabbè vi metto Uno screenshot Più che altro ragazzi Mirino 4 per È un po' Un casino Perché comunque È una modalità Dove c'è molto Bordello Fumogini Grate incendiarie Se non metti Un mirino Fatto apposta Per queste cose Non vedi niente Comunque L'obiettivo del video Era arrivare primo Ci sono riuscito Ho fatto 55 kill 8 morti 35.000 punti Probabilmente Con un mirino Fatto apposta Per fumogini Grate incendiarie Avrei fatto Anche più del doppio Delle kill Comunque L'obiettivo del video Era arrivare primo Quindi Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo video Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti